ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 a inizio febbraio è successa una cosa particolare nel giro di pochissime ore si sono aggiunti addirittura tre patrons tutti ravvicinati chissà che cosa ho detto o ho fatto nelle ore precedenti per essere stato così convincente ad ogni modo davvero un enorme ringraziamento a queste tre new entry in ordine cronologico patti bellia pasquale castrilli e gaetano fresa grazie mille davvero ma veniamo adesso alla puntata come neo coach sto imparando sulla mia pelle e su quella dei miei allievi determinate cose ma soprattutto sto trovando dei tratti comuni tra più persone non proprio comuni a tutti tutti quelli che alleno ma a qualcuno sì chiaramente nel percorso che sto vivendo ci sono poi delle situazioni o dei comportamenti più difficili da gestire in quanto coach che dividerei sostanzialmente in due macro categorie una sono le mie personali difficoltà nel magari riuscire ad usare bene i carichi di lavoro o comprendere meglio i riscontri delle persone e di conseguenza poi tarare gli allenamenti la seconda è più quasi psicologica con alcuni comportamenti che sono ricorrenti delle persone che sto seguendo sono di fatto dei piccoli atteggiamenti o errori sui quali bisogna però lavorare quasi più però mentalmente che fisicamente nel pratico più o meno correre si corre tutti quanti è roba che insomma sto tentando di far comprendere a chi seguo per sistemarli in buona sostanza di conseguenza si tratta tutte quante messe insieme di difficoltà che sto trovando poi io in prima persona in quanto allenatore per far sì che poi gli allievi possano lavorare al meglio oppure proprio complessità che sto vivendo e vedendo solo io lato allenatore e non percepite magari lato allievo questa insomma è roba solamente mia sulle quali ben poco c'entrano gli altri ma sulle quali devo concentrarmi io per primo tra le varie complicazioni adesso non vi starò a parlare del tempo che banalmente mi serve per analizzare inserire anche poi gli allenamenti in tabella rispondere ai messaggi o fare qualche telefonata periodica queste sono cose che ho messo in conto fin da subito e alla fin fine mi impegnano il giusto non è lì la difficoltà la complessità anche perché parliamoci chiaro non ho poi un numero così sconsiderato di persone da seguire tuttavia sto trovando proprio altre piccole difficoltà che poi adesso finalmente finita questa introduzione vado a delencarvi e spiegarvi sono cose che in gran parte ho poi già detto di persona a chi eventualmente ha commesso questi diciamo errori ma che sicuramente poi inserite adesso in un contesto più grande più ampio con uno sguardo maggiormente esterno e completo possono assumere ancora maggior significato ma insomma iniziamo la prima difficoltà è non farli fissare sui dati specialmente sulla frequenza cardiaca questo tra tutti probabilmente l'elemento più diffuso per lo meno tra chi dei miei allievi è un po più nerd e smanettone o chi comunque anche per abitudine di tanti anni di corsa guarda tanto la frequenza cardiaca o anche al passo al chilometro perché appunto abituato così da tempo invece come raccontato anche nella puntata in cui vi spiegavo dell'rp come metro di misura per i workout è lo sforzo percepito che dovrebbe guidarci infatti il passo al chilometro può non essere un giusto metro di misura per chi fa trail anche se si affrontasse lo stesso medesimo segmento dato che poi le variabili in gioco possono essere molte e cambiare così il ritmo finale invece la frequenza cardiaca può subire molte variazioni dettate dal riposo dall'alimentazione dallo stress esterno dal clima e così via oltre che essere molto molto personale e anche sulle singole zone di frequenza cardiaca poi ci sono tantissime opinioni differenti in giro per il mondo e non è detto che ci sia proprio una soluzione uguale per tutti anzi senza contare poi aggiungerei che quella rilevata al polso e non da una fascia è molto molto spesso poco attendibile motivo per cui una complessità che in generale sta trovando in qualcuno è di svincolarsi sempre di più da questi parametri imparando man mano a gestirsi in autonomia in quanto a sforzi da sostenere e direi anche un modo migliore forse per godersi in generale proprio la corsa perché si penserà più a godersi l'uscita che altro secondo flessibilità nei giorni per come è fatto il software che sto usando io devo per forza piazzare gli allenamenti in un determinato giorno della settimana tuttavia so benissimo come la vita e gli impegni spesso ci possano portare a dover spostare rimandare o anche saltare un allenamento e di quest'ultima cosa del saltare ne riparliamo anche meglio nel prossimo aspetto nella prossima difficoltà la cosa che vorrei far comprendere è che ci deve essere una qual certa libertà nei giorni in cui allenarsi spostando eventualmente le sedute non è la fine del mondo certo sarebbe bene evitare magari di non correre per tre giorni poi farne quattro magari anche complessi duri in fila quello no ma non è un problema se il workout di qualità del martedì lo si sposta al mercoledì o lo si anticipa al lunedì non è assolutamente un problema le tabelle sono tutte strutturate per far sì che non ci siano quasi mai due sessioni difficili in due giorni consecutivi deve essere proprio una cosa ponderata e per chi corre meno ci sono anche svariati i giorni off durante la settimana per cui è quasi impossibile anche saltando o spostando un allenamento che si va ad effettuare quello più impegnativo eccessivamente stanchi da un'altra sessione di questo tipo che era avvicinata insomma nessun problema nel spostare gli allenamenti e nel sentirsi in colpa nel doverlo fare nel caso poi di grosse rivoluzioni per qualche motivo particolare si cancellerà o rimodulerà eventualmente tutta la settimana ma ci sta bene la flessibilità non siamo dei robot ci sta l'imprevisto e quindi si possono spostare gli allenamenti il terzo è non impazzire per avere tutti i semafori verdi io per primo ci scherzo ma effettivamente da lievo ho un po questa ossessione e la noto anche in alcuni miei adepti lo so benissimo come sia figo soddisfacente dia proprio a una bella soddisfazione aprire training pics o good coach e vedere che tutti gli allenamenti sono stati eseguiti per benino con un bel pantone verde a farla da padrone però come dicevo anche prima ti sa che qualcosa vada storto a livello di impegni personali che si debba saltare uno o più allenamenti non è la fine del mondo questo è il messaggio certo se si saltassero tanti workout in fila sarebbe un conto ma un ogni tanto può capitare e non ce ne si deve fare una malattia specialmente se non è uno di quelli più importanti di tutta la preparazione anzi diciamo pure che un allenamento saltato ogni tanto ci può anche fare bene parliamoci chiaro alla peggio poi se si saltasse un allenamento veramente importantissimo sarà mia cura metterlo eventualmente successivamente in tabella o comunque mettere una seduta che dia uno stimolo allenante simile rispetto all'allenamento saltato quarta complessità incastrare in calendario e gestire lo sforzo che richiedono le gare le competizioni sono belle c'è poco da fare c'è chi è abbastanza fissato va detto tuttavia mi è capitato in questi primi mesi di dover gestire più gare di avvicinamento rispetto a quella principale che detta così non sarebbe un problema ci mancherebbe altro se non che a volte capitano persone che corrono o molte gare o che ne piazzano un paio anche in un cortissime nel giro di poche settimane il mio lavoro è ovviamente di consentirli di farle divertirsi e di compiere al meglio ma mi sto rendendo comunque conto come non sia semplice gestire questa cosa principalmente su due aspetti in primis da parte mia di incastrare bene queste gare nell'annual training plan insomma nel piano annuale che non sono quelle a per intenderci sono gare quindi un po di secondo piano cercando quindi di usarle come se fossero dei lunghi ma dando in ogni caso la loro giusta importanza in modo da poter dosare nel modo corretto il carico cercando di far arrivare l'allievo magari non al 100% ma comunque in grado di correrla per bene il tutto sempre lato mio bilanciando questi sforzi che sono tendenzialmente superiori al solito anche quando gli si dice vai piano è normale che in gara un po ti si tappi la vena cercando così di evitare poi sovraccarichi di lavoro dovuti a un impegno maggiore rispetto al previsto e due seconda difficoltà di questo tipo collegata fargli capire che spesso queste gare vanno viste per l'appunto come un buon modo per fare dei lavori lunghi magari in compagnia divertendosi distraendosi sostituendo di fatto una long run ma dove non sarebbe il caso proprio di ammazzarsi in vista della gara obiettivo quinto farli andare piano e con questo mi riferisco sì alle gare appena nominate ma soprattutto in allenamento anzi in alcuni particolari allenamenti infatti paradossalmente andar piano non è tanto un problema nell'uscita e quelle proprio lente in queste vedo che in linea di massima viene rispettata l'indicazione di correre a ritmo blando ma più che altro accade in sessioni che prevedono dei cambi di ritmo per intenderci delle ripetute ma che teoricamente non sarebbero da correre tutte alla morte tipo quelle a ritmo soglia o endurance per intenderci ho notato che a volte la tendenza è quella del tipo vedo in tabella una ripetuta la devo correre al massimo della mia velocità invece no dipende da quello che c'è in allenamento dipende dall'rp è segnato ci sono effettivamente a volte allenamenti dove bisogna dare tutto nella fase attiva ma come ce ne sono altri dove il ritmo invece deve essere più gestito e moderato anche perché poi succedono tre cose che non vanno bene se si agisce in questo modo cioè ti si stanca più del previsto e quindi non sia brillanti quando ci sono altri allenamenti da fare oltre a mettere del carico di lavoro extra non previsto che può anche portare a dei sovraccarichi secondo ci si potrebbe proprio scoppiare male nel corso delle ultime ripetute e quindi non portare neanche a termine l'allenamento e terzo non allenandoci alla giusta intensità non si va poi di conseguenza a lavorare sulle specificità previste dal singolo workout per esempio se c'è da lavorare sulla soglia il ritmo dovrà essere quello altrimenti si andrà a dare uno stimolo diverso da quello desiderato e numero 6 interpretare il feedback ultima difficoltà questa direi quasi interamente mia ho chiesto ai miei allievi di lasciarmi il più spesso possibile dei feedback dopo l'esecuzione dei singoli allenamenti e devo dire che più lo fanno con grande attenzione e dettaglio nonostante questo mi sono reso conto come ogni persona sia molto diversa dall'altra anche in quanta percezione della fatica e dell'impegno di come ci siano atleti in grado di sostenere grossi carichi e altri che invece fanno molta più fatica di come ognuno esprima le proprie sensazioni post corso in modo totalmente personale che sia andata bene o male a prescindere ed il mio compito è quindi di capire ognuno di loro in modo un po psicologico per avere come una sorta di scala personale persona per persona che mi faccia capire meglio il loro stato di forma interpretando quindi non solo i singoli numeri del workout ma soprattutto quello che mi viene scritto e detto nei commenti questo è molto complesso perché c'è chi tende a minimizzare la fatica fatta mentre c'è chi al contrario una soglia della sopportazione è minore e devo comprendere se gli allenamenti che sto somministrando nel breve e specialmente nel lungo periodo sono giusti e ben tarati per la persona questo non solo in quanto a carichi di lavoro per evitare infortuni ma anche per dare gli stimoli corretti e mantenere alta la motivazione e buona ci siamo questa era la prima infornata di piccole complessità che sto affrontando nel mio nuovo ruolo di allenatore ma sono certo che appunto sarà la prima perché ne usciranno fuori delle altre in futuro come sempre vi terrò aggiornati circa i miei progressi e sviluppi di questo percorso al solito il confronto per me è sempre gradito che siete allenatori o no quindi per qualsiasi cosa inerente a questo episodio o anche altri scrivetemi e commentate tra instagram telegram email e quant'altro sono super raggiungibili da chiunque sulla piattaforma che più predilige tutti i miei contatti sono nelle note dell'episodio e se volete anche voi unirmi a tutti i miei sostenitori che mi hanno fatti tre nuovi coraggiosi menzionati quest'oggi che ringrazio ulteriormente sempre in descrizione c'è il link per accedere a patreon per una donazione ricorrente mensile invece per chi volesse farne una sola senza sentirsi legato per forza tutti i mesi c'è la possibilità di farlo tramite paypal o buy me a coffee sempre nelle note trovate tutto quanto direi che per oggi è tutto cari runners oggi abbiamo parlato delle mie difficoltà prima o poi mi toccherà farlo anche dei vari errori commessi ci sentiamo alla prossima puntata per la prossima puntata